Gratulazioni, fratello maggiore. Grazie, Pupo. E questa è Geneviève. Ciao, Maxuel. Geneviève, questa è la ragazza che sta con Nigel, stanno insieme. Senti, Francesca, forse è meglio che vada via. Oh, poveri di lasciarmi scappare. No, vai, Lalla, vai, forza. Lalla, se ne va, ciao. Ah, lei è Francesca. Adesso mi ricordo. Lei è quella ragazza con cui tu hai ridotto. Ah, ecco, anche Geneviève se ne va, si muova, cara. Nice, la compagni nella sua stanza, ciao. Maxuel, dobbiamo vedere ancora tre ballerine. E Nigel, non lo sapevo che venissi tu pure. Eh, certo, sì, sì, è stata via, in vacanza. Ah, sì, lo dicevano, davi i numeri. Nigel. No, Maxuel, non ti preoccupare. Ci hanno spiegato che la cosa più importante per la guarigione è ammettere di aver avuto un problema. Il fatto è che io stavo bene, dovrei denunciarli quei ciarlatani. Ora, Nigel, se vuoi scusarmi, mi devo occupare dei provini. Tanto ci vediamo più tardi a tavola. Sì, va bene, Maxuel, ci vediamo dopo a cena. Lavora e non ti preoccupare. Nigel, Nigel, guarda, non devi dire niente a Maxuel perché lui non lo sa che noi due stavamo per scappare insieme e poi sulla nave sposarci e essere sempre sinceri. È la base del nostro rapporto. Ma siccome tu non hai con lui questo rapporto, gli puoi mentire quanto ti pare. Tesoro, non preoccuparti. Non parliamo mai di noi, siamo inglesi. No. Se dovessi elencare a Maxuel tutte le scemette di cui mi sono innamorato, starei qui anni. Ah, molte grazie. Sei stato importante anche tu. Grazie. 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 Grazie.